Ieri il presidente della FEI italiana, Fondazione per l'Educazione Ambientale, Claudio Mazza, ha accettato l'invito da parte del sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, ed è stato ricevuto al Palazzo dell'Aquila. La presenza a Ragusa del presidente Mazza è stata utile per un confronto in merito e criteri alle modalità di valutazione dell'apposita commissione che esamina le candidature dei comuni italiani al fine del riconoscimento annuale della bandiera al blu. Il presidente Claudio Mazza, durante l'incontro, ha spiegato quanto sia particolarmente delicato e complesso il lavoro della commissione, formata da esperti dei vari ministeri e dalle maggiori confederazioni nazionali, quali Confesercenti e Confcommercio, che si occupano di assegnare la bandiera blu. Per poter ottenere l'ambito di riconoscimento, si deve far fronte a dei requisiti standard molto rigidi riguardanti soprattutto la gestione dei rifiuti attraverso le consistenti attività in termini percentuali di differenziazione degli stessi nella fascia costiera, di impianti di depurazione efficienti e dell'ottima qualità dell'acqua di balneazione. A proposito, il sindaco Piccito ha puntualizzato l'impegno del comune di Ragusa nell'attivare una serie di misure per incrementare la percentuale della raccolta differenziata ed ha attivato al contempo una politica di reciclaggio dei materiali differenziati. La pulizia delle spiagge ragusane garantisce un mare pulito. Questi i punti a favore per cui si potrebbe assicurare la bandiera blu a Marina di Ragusa. Subito dopo l'incontro al comune, il sindaco Piccito e l'assessore Zanotto hanno accompagnato il presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale per una breve visita a Marina di Ragusa e al porto turistico, facendo notare la lunga spiaggia ancora frequentata da numerosi turisti, attrezzata con docce pubbliche, scivoli per l'accesso da parte di portatori di handicap.